Ho quasi 40 anni e finalmente inizio a pensare ai miei giorni felici che trascorrerò nell'RSA. L'obiettivo è entrare entro i 50 anni. Il momento è perfetto perché ultimamente gli ospizi sono veramente il fiore all'occhiello del nostro paese, sicché ho pensato quale posto migliore, dove andarmi a rifugiare, dove proteggermi. Eccoli, li vedo davanti a me tantissimi giorni che mi aspettano felici, giornate a disposizione per guardare i muri bianchi su una sedia o nel pannolone. Non mi alzerò neanche per far pipì. Resterò così a bocca aperta, con la mandibola rilassata finalmente, a guardare questa tv correnda. Non dovrò sorridere a tutti, non dovrò chiedere permesso, mi scusi, posso. Potrò ricevere ospiti senza dover sistemare casa. Poi ogni giorno c'è un ricambio di amici incredibile, no? Quindi muoiono quelli vecchi, arrivano i nuovi, il nuovo entusiasmo che portano. Verrò lavata, pulita, vestita, asciugata, eh? Senza dover lavorare io, senza dover mettere i panni nella lavatrice, stenderli, stenderli bene, perché se stendi bene non devi stirare. Potrò sfogarmi come mi viene meglio, urlare, tirare oggetti contro i muri, dire ciò che penso senza che nessuno mi venga a dire Arianna ma vuoi lavorare ancora? Tutti avranno pazienza, tutti. Sono pagati apposta. Poi mi piacciono le vellutate e anche vedere poco i parenti. E riceverò i cioccolatini in regalo. E ci sarà qualcuno pagato per razionarmeli. Se no io pure la scatola mi mangio. Invece no, Arianna c'è il diabete. Mi imboccheranno, mi allacceranno alle scarpe. Faranno queste cose che nessuno fa per me da anni. Senza contare che non riceverò le cartelle esattorielle, le multe, le ingiunzioni, queste cose qui. Basta perché quando entri in un RSA, lo Stato non si accanisce più contro di te. Va a prendersela con gli eredi. Me ne starò tutto il giorno in pigiama a giocare a scacchi con quelli con l'Alzheimer, perché comunque mi piace vincere. Me ne starò nel salottino quello delle visite a ricevere gli ospiti, i parenti, i familiari, i amici che farò finta di non riconoscere. Ma che bello. Poi ogni tanto mi metterò lì a guardare gli infermieri che corrono e sgobbano per portarsi a casa uno stipendio di questi qui anche abbastanza mediocri per l'amore di lavoro che hanno, per poi sentirsi giovani, sentirsi operativi nei loro pochi giorni di riposo. Sentirsi giovani. Stupidi perché non sanno che per lo Stato italiano la gioventù non è una risorsa ma un problema. Dovrò iniziare a mettermi i soldi da parte per quest'operazione qui. Lo farò volentieri perché tanto sto pagando i contributi. Me lo sono sempre chiesto da quando sono obbligata ad avere una posizione fiscale dov'è che vanno i contributi? Dove finiscono i soldi che lo Stato mi chiede per progettare, per preparare il mio futuro? Ma soprattutto ma se lo Stato mi rovina il presente ma che gliene fotta del mio futuro?